Ciao a tutti sono Marco88 raffreddato e ci troviamo su Untarned con... Mazetess Questa volta si è ridotto il ritardo di risposta dai Stiamo migliorando Stiamo migliorando Qui arriveremo al momento in cui saremo così bravi con l'editing audio Che ci sarà un programma automatico che ci avvicina alle due risposte audio E potremmo chiamarci quei due sullo zombie dai I due sullo zombie Però due sullo zombie mi sembra... Ci stai tu sullo zombie scusa un attimo Sopra perché lo stiamo depredando No è brutto perché lasciamo stare Io invece preferirei avere sopra una bella ragazza Che dici? Sì dipende Quei due che avevano una bella ragazza sopra Eh ma sopra dipende dalla ragazza Sei una cicciona mega galattica No ho detto una bella ragazza Mannaggia come l'hai scagliato lontano Io ho sprecato tutta la mia pistola per niente in pratica Eh sì siamo in una pistola a biscotto Tra l'altro ho visto che oggi hanno fatto un altro aggiornamento di Untarned Ma non ho visto che cosa hanno aggiunto Io spero che abbiano aggiunto le ceste ma non ne sarei sicuro Dopo proviamo Lattina Io ho il 46% di video No oggi ma oggi è il primo febbraio Voi vedrete questo video molto più tardi Spongo Eh hai fame? Siete? Attento che sei uno zombie che è spawnato dietro di te Sto morendo sai? Tu hai delle medicine barra non so cosa? No Cerchiamole Perché io ho tanta roba di cibarie ma niente di altro Vale che vada a spawn uno a casa No non è vero io Fai andiamo a cercarle Andiamo a cercarle sì Da che parte andiamo? Tu riesci a vedere la mappa Vedersi c'è qualche città Nei pressi Perché qua ci sono delle case Ma non so se c'è una farmacia Possiamo provare a fermarci qua Adesso Gira subito sulla sinistra ora Eh l'hai mancata Vabbè adesso ci stiamo andando Sei sicuro? Adesso a vedere No era prima Era prima Era prima Scusami Qua si va sull'altra isola Ma fa schifo l'altra isola Ma è quella militare? Quella semidesertica Che ci sono due postazioni militari sopra Sì No 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 Quella prima Dove devo andare? Invece qua Prendiamo il tunnel E ci ritroviamo su wishing town Capito? Il tunnel Ma non era chiuso quel tunnel Sì ma si può passare Sì Vista Ah e non ho mai preso quel tunnel credo Io li ho presi tutti i tunnel Perché sono morto un po' di volte Ah no è vero è aperto Mi sembrava chiuso ma non è vero C'è della gente a caso Qua in mezzo Tiriamo giù tutti Poi magari dovremmo prendere una fiamma ossidrica Io l'avevo presa ma poi sono morto Secondo te la tua roba Oh forse l'aveva droppata la fiamma ossidrica Quello Però vabbè lasciamo perdere Vuoi tornare indietro? No ormai andiamo a vedere Oh attento Mi appara solo l'ultimo tipo Ok fermiamoci qua Questa è un'altra città Io ho pochissima vita Vediamo se riesco a 46 Speriamo di non trovare un Hulk Con un colpo l'ho seccato Se troviamo un Hulk Siamo nei guai grossi Dobbiamo scappare Io cambio e uso quel taglino Forse devo mangiare qualcosa Perché se no qua muoio di fame Anch'io morirò di fame Ma adesso vado a cercarmi una casa Qua ci sono un bel po' di zombie Ah ma guarda è tornato come un tempo eh Che non va più da 1 a 100 Va da 100 a 0 Avevi notato? Oh che pallo è Sto per morire sai Di cosa? Sanguinamento? No 23% di vita Ho trovato una cosa più inutile in questo gioco Guarda Tipo? Guarda Uiii Ah si Magari può essere utile nel PvP Ma nel PvE non ha gran senso Oddio 10% Marco 10% Tra poco muoio Andiamo diretti a cercare se c'è una farmacia No aspetta io ho un soccopelo Magari posso scraftarlo Sì No No niente Non posso scraftarlo Posso scraftare la mia maglia però E mi faccio una benda C'è uno zombie Bruttissimo Col capellino Ok 30% E questo posso scraftarlo? Ah me lo droppa per terra naturalmente Cane Questo lo butto un attimo per terra Questo anche Questo anche Per essere sicuro che quello mi stia Posso scraftarlo Posso scraftarlo Posso scraftarlo Sì Marco hai bisogno di bende? Sì Te ne do una o due Quanta vita hai? 28 Dammene una Tu quanto hai? 30 Quindi facciamo una testa 20 Attenzione agli zombie Uh lì c'è un sacco di roba Tieni te l'ho droppata qua È roba mia Sì che non mi ci stava più Te l'ho droppata qua la benda Ok Andiamo a vedere se troviamo qualcos'altro In giro A me si ispira A parte la morte A me ispira Quell'altro lato Sai Cos'ha droppato? Ah un Timberwolf Magazine Vuoi andare dall'altro lato? Allora ci vediamo poi dopo Beh dopo Guarda che sono già 7 minuti Che registriamo Allora meglio concludere Tanto tra breve moriamo Quindi Da Marco88 è tutto E da Mazzetessa anche Vi invito a lasciare un commento Un mi piace Iscrivervi ai nostri canali Se per caso non l'aveste già fatto I link sono in descrizione Rispettivamente Di Marco88 e Mazzetessa Per me è tutto Ciao Ciao Grazie a tutti.